Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Le voci di tensione tra Harry e Meghan e le cugine, Eugenie e Beatrice di York, hanno iniziato a circolare con insistenza. Questa rottura tra i Sussex e le figlie del Duca di York sarebbe sorprendente, considerando che Eugenie e Beatrice avevano mantenuto rapporti amichevoli con Harry, nonostante l'allontanamento dei Sussex dalla famiglia reale. Tuttavia, questa situazione sembra essersi deteriorata, e secondo le voci, la causa potrebbe risiedere nelle azioni dei principi del Galles, William e Kate. La famiglia reale britannica è stata scossa da molte controversie negli ultimi anni, soprattutto dopo la decisione di Harry e Meghan di distanziarsi dai doveri reali. Nonostante ciò, Eugenie e Beatrice avevano continuato a intrattenere una relazione cordiale con il cugino. I recenti eventi, però, avrebbero portato a una spaccatura tra le due fazioni della famiglia. I rapporti di una volta, pieni di cene condivise e viaggi di piacere, sembrano appartenere al passato. Secondo Elitalia, la rottura tra i Sussex e le cugine sarebbe stata alimentata dalla lealtà di Eugenie e Beatrice alla famiglia reale, un aspetto che le ha portate a prendere le distanze da Harry e Meghan. Le due sorelle, che hanno giurato fedeltà alla corona, avrebbero scelto di non comunicare più con i Sussex. Le fonti sostengono che la scelta di rimanere fedeli alla famiglia reale ha reso inevitabile l'allontanamento dai cugini ribelli. In passato, Eugenie e Beatrice erano tra i pochi membri della famiglia reale a mantenere un rapporto stabile con i Sussex. Tuttavia, recenti sviluppi indicano che la tensione tra Harry, Meghan e il resto della famiglia è stata difficile da gestire anche per loro. Il dramma e le divisioni interne hanno causato stress e preoccupazione alle cugine, costringendole a prendere una posizione più chiara e distaccata. Questa nuova distanza tra Harry e Meghan e le loro cugine è solo un altro esempio delle conseguenze delle loro azioni e dichiarazioni negli ultimi anni. I Sussex hanno spesso sfidato le tradizioni e le aspettative della famiglia reale, contribuendo a creare un divario crescente. Nonostante alcuni sperino ancora in una possibile riconciliazione, i segnali attuali indicano che le tensioni potrebbero persistere. La speranza di una riconciliazione rimane, con alcuni che credono che i tentativi di riavvicinamento possano eventualmente avvenire. Molti osservatori e sudditi della famiglia reale inglese attendono con ansia un possibile ricongiungimento, ma per ora, la strada sembra essere ancora lunga e incerta. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Grazie!